Sono stati proclamati dalle organizzazioni nazionali due giorni di sciopero con due manifestazioni, due presidi. Uno che interesserà Vicenza e le basi di Aviano dell'Air Force e di Livorno, sempre dell'esercito. La seconda giornata del 30 di giugno sarà una manifestazione a Napoli, a Sigonella, dove ci sono delle basi della Marina. Uno sciopero inedito per la base di Vicenza, che ha sempre mantenuto rapporti contrattuali corretti con i lavoratori italiani che fanno funzionare le installazioni militari americane in città. Attualmente sono 800 i lavoratori con contratti diretti, che svolgono molteplici funzioni, professionali, artigianali e commerciali, più un indotto di circa 2000 persone coinvolte con le esternalizzazioni. Dal 2021 il contratto collettivo era scaduto, ma non solo non è più stato rinnovato. Ai sindacati, in un incontro interlocutorio, oltre ad un tassativo di niego ad alcun aumento salariale, sarebbe stato comunicato l'intenzione di licenziare 41 persone della base di Vicenza, senza rispettare le più comuni procedure contrattuali vigenti. Tutte le installazioni d'Italia stanno portando grandissima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici di Vicenza per i 41 esuberi e stiamo tutti lottando perché ci sia un rinnovo dignitoso e decoroso delle condizioni di impiego. Principalmente si sono trincerati dietro delle restrizioni di budget che sono inesistenti, in quanto negli altri paesi europei dove operano basi americane, sono stati dati sia gli aumenti nell'ordine di oltre il 5%, sia delle una tantum anche superiori ai 1500 euro per far fronte al caro vita. Quindi non si spiegano le restrizioni di budget sull'Italia. Ancora di più il motivo che ci ha spinto a questo sciopero è il fatto che nell'incontro di raffreddamento tenuto in ambasciata, che doveva servire proprio per trovare una soluzione, quindi un incontro di alto livello, ci è stata sostanzialmente respinta qualsiasi ipotesi negoziale per il rinnovo.